Con poco più di un miliardo di euro di utile netto, Credit Suisse porta a casa una trimestrale nettamente al di sopra delle attese. Gli investitori hanno festeggiato facendo volare il titolo di 5 punti percentuali in borsa giovedì mattina. Gli stessi investitori che però ora attendono dettagli sulla strategia del nuovo numero uno Tijantiam, l'ex capo delle assicurazioni Prudential, ha già fatto sapere che presenterà un piano entro fine anno. Ma un orientamento di massima già si intravede, meno investment banking, considerato troppo volatile, e più gestione dei grandi patrimoni, con un focus particolare sull'Asia.